Ah, quindi siete proprio gemelle. Un attimo che recupero il mio biglietto. Gratis. Lo vuoi uno strappo con la macchina che mi danno per un anno gratis? Ah, no! È gratis. Gioca con Monopoli da McDonald's. Vinci premi che ti servono tutti i giorni. Viaggi con le frecce. Vacanze ed è viaggi. Un anno di fitness Virgin Active, milioni di prodotti McDonald's e molto altro. Uno su quattro vince subito. È gratis. Sì, sì. Un po' gratis. Sì, sì.